Sabato prossimo 28 marzo torna il Festival del Bacio, la manifestazione promossa dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune in collaborazione con la seconda municipalità. L'evento è ideato e realizzato dal corso di nuove tecnologie dell'arte dell'Accademia Belle Arti di Napoli e anche quest'anno animerà le vie del centro storico con dispositivi estetici acceleranti e installazioni interattive posizionate lungo il percorso. Si articola all'interno del tessuto cittadino nel centro storico e coinvolge un quadrilatero importante perché stiamo parlando proprio del cuore pulsante della città. È la quarta edizione, c'è un progetto ambizioso di installazione di un segno importante sulla stazione marittima che è il cuore pulsante del cuore di Napoli e un coinvolgimento di 400 esercizi commerciali. Da Via dei Tribunali a Benedetto Croce, da San Biagio dei Librai, passando per San Sebastiano, 400 esercizi commerciali vestiranno a festa le proprie vetrine, prolungando per l'occasione l'orario di chiusura. Previste una ventina di esibizioni musicali e l'apertura straordinaria di alcuni siti culturali. Sarà possibile visitare e scattare foto nella Cappella San Severo dalle 18.30 alle 22. Napoli Sotterranea prolungherà l'orario di apertura al pubblico, così come il convento di San Domenico Maggiore che rimarrà aperto fino alle 22. Attraverso anche questa iniziativa noi perseguiamo l'obiettivo di fare di Napoli una capitale della pace, una capitale del neumanesimo in un momento particolarmente difficile e complicato nel mondo e anche nel Mediterraneo. Io dico che il bacio è una strategia disarmante, cioè toglie le armi della violenza, delle aggressività, costruisce relazione, integrazione, rapporti e quindi in questo senso solo Napoli può essere la capitale di questo festival. A scandire il tempo del festival del bacio sarà il battito del grande cuore rosso pulsante, simbolo di accoglienza installato alla stazione marittima. L'evento si inserisce nella programmazione culturale e turistica cittadina e si concluderà con i fuochi d'artificio dal piazzale di San Martino.